scusate 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 un attimo di attenzione prego volevo farvi una domanda anche voi come me quando sentivate parlare di paolo pasquali pensavate ad un presentatore come pippo baudo o tipo gerry scotti o magari carlo conti insomma una persona tutta ad un pezzo vestita elegante con tanto di cartellina con gli appunti come quando si presenta a sanremo canzonissima ebbene con questo fisico scolpito nelle sabbie mobili paolo pasquali super superman don't you understand we love you super superman don't you know you are my hero not gonna die